Mio papà aveva gli occhi azzurri, azzurri molto molto intensi, però portava degli occhialoni nerissimi, per cui non si riuscivano bene a vedere i miei occhi. Io non avevo mai visto bene gli occhi di mio padre, perché anche quando allenava li avevo. Io vidi quegli occhi azzurri e li ho paragonati al cielo. È un ricordo che mi porto dentro. E alla maglia del Brescia, che lui ovviamente ha portato con tanto onore. Mi stai facendo come onore. Ah, è capito. Vedo. Però sono sempre un cardiologo. Sì, sì, no, no. Se mi commuovo troppo e mi vedi distraeato per terra, fai qualcosa. No, no, quello. No, no, perché mi ha ricordato anche mio papà. Ecco, non volevo. Sono veramente toccato anche io nel cuore. E qui diamo la risposta. Questa sera berrò due bicchieri di vino rosso. Non uno, eh. Ottimo. Va bene, va bene. Allora, secondo le fonti storiche, la maglia della nostra nazionale di calcio è azzurra, perché nacque come maggio ai Savoia, ai francesi, ai mediterranei e al cielo. Attraverso una tua storia bellissima, che è partita dal tuo papà e è andata in cielo e poi, come un pallone di calcio, è rimbalzata qui nel nostro studio... Beh, diciamo a... Si è compasso tu adesso? Eh, bene. C'ho un altro fazzoletto. Toh, ne abbiamo una a testa, eh. E poi la gente da casa dice che è solo un quiz. Sì, è solo un quiz. Guardate quante cose possono venire fuori semplicemente con un quiz. Grazie. Grazie, è solo un quiz. Tu li sei.